Secretaria, Angeloni, Antonetti, Bartolini Flavio, Bartolini Michi, Cavandrini, Carginale, Contrisciani, Core, Corona, Cossi, D'Alberto, Gigilio, Di Berandino, Di Domenico, Di Ovidio, Favorevole Palasca Favorevole Faglini Favorevole Pantozzi Favorevole Tracassa B Lancione L'Asterone Giudas Favorevole Magavolta Favorevole Maranella Favorevole Marloni Menarangelo Favorevole Mistichelli Favorevole Papa Pilotti Favorevole Provisiero No Raduzzo Contrario Raiola Favorevole Tiberi Varani Favorevole Cardinale Emiliano Assente Diggio Domenico Valeria Assente Papa Valentina Assente Silberi Pasquale Assente Assente Sente 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 voti favorevoli, 11 contrari un assoluto 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 un'immediata esecutività dell'atto prego segretaria appello un'immediata esecutività dell'atto Antonelli Bartolini e Claudio si Bartolini e Viti no Canandrini si Bartolini e Gnasi 12 anni Core si Corona Contrario Cozzi no Dalberto si Decidio Contrario Liberabino no Diorigio si Palasca si Palini si Pantozzi si Tracassa no Arancione si Liuras si Manavolta si Maranella si Marroni no Nelarangelo Mistichelli si Papa Pilotti si Provisiero Rabusco Contrario Raiova si Iberi Varari si si Cardinale Emiliano assente Iberio Dominico Leveria assente Papa Valentina assente Iberi Pasquale assente 18 voti favorevoli 11 comprati atto immediatamente esecibile quindi la convenzione è sciolta e lo Stato buono condizioni pubbliche della proprietà comunale vediamo adesso altri a